Ed ora tutto il ritiro. La sconfitta rimediata sabato pomeriggio alla Recchi contro i Carpi è costata cara alla formazione Granata che da ieri è il ritiro a Polla. Non è una punizione quanto una decisione dettata dalla volontà di isolarsi per ritrovare serenità in vista di una sfida importantissima per la classifica e per il morale. Sabato prossimo, alla vigilia di Natale, c'è il derby in trasferta da Vellino, una gara che si commenta da sola e che ha un valore particolare per i tifosi e per tutto l'ambiente Granata in generale. Un match vista l'ultima giornata di campionato che ha visto le due formazioni accomunate dallo stesso destino, quello della sconfitta sempre per 2-1 con gli Irpini caduti al San Nicola contro il Bari e Granata a K.O. con il Carpi. La classifica non sorride con l'Avellino in piena zona retrocessione e la salernitana ridosso di quella play-out ad una sola lunghezza di vantaggio. Dunque, a due gare dal termine del girone d'andata non si può più scherzare ma bisogna fare punti per arrivare al giro di Boa con un bottino che faccia vivere la sosta in maniera tranquilla aspettando di poter operare sul mercato per portare i correttivi giusti alla squadra anche in virtù delle indicazioni del nuovo tecnico Bollini. I Granata sono scesi in campo questa mattina alle 10.30 come detto a Polla per iniziare la preparazione in vista della difficile sfida contro i Biancoverdi con la consapevolezza di non poter contare su Massimo Coda espulso per doppio giallo contro il Carpi e su Bernardini che essendo diffidato dopo l'ammunizione rimediata sarà squalificato per un turno.